Ciao bambini, vi propongo oggi un'attività bellissima e anche molto utile secondo me. Faremo una cornice per il vostro diploma di scuola dell'infanzia, visto che andrete in prima elementare l'anno prossimo, c'è da incorniciare questo diploma. Allora, prendiamo un cartoncino rettangolare e poi disegniamo all'interno un altro rettangolo delle stesse dimensioni del vostro diploma. Lo prenderete e disegnerete il rettangolo su questo cartoncino in modo che vorrete metterlo all'interno. Per la cornice ho pensato a tante cannucce, le ho tagliate in pezzettini, eccole, io avevo queste qui, ma tante cannucce colorate. Quindi mettete la colla su tutta la parte esterna dove volete, insomma, della cornice e attaccate tutte le cannucce in modo sparso, orizzontali, verticali. Deve essere colorato e fatto con tanta tanta passione, visto che dovrà incorniciare il vostro prezioso diploma. Io ne metto, se avete cannucce di tutti i colori, tipo gialle, verdi, viene ancora più bello e colorato. Ecco, mettiamo un'azzurra qui, una gialla qui, vediamo un po'. Qui mettiamo un altro po' di colla e poi continuiamo con gli altri lati. E quindi fate tutti e quattro i lati della vostra cornice. Lo fate un po' asciugare e poi al centro metterete il vostro diploma. Io continuo ad attaccarmi ancora un po' e poi lascio fare a voi. Mi raccomando, eh? Un altro po'. E poi, ecco fatto, e poi continuate con gli altri due angoli, qui su e l'altro, il quarto lato. Spero vi sia piaciuto, vi abbraccio forte e ci vediamo presto! Grazie!